Siamo qui con Piotti e Alessandro che sta raccontando le vicissitudini della sua vita insomma ha aiutato i genitori e per aiutare i genitori che erano malati ha abbandonato il lavoro adesso si trova in grave difficoltà e fa appello al sindaco di Cardano che cosa è successo? Che nessuna istituzione mi sta aiutando e sei qua abbandonato da solo, senza reddito, senza casa, senza nessuno che è sicuro di te invalido al 60% hai detto, giusto? operazione alla valvola mitrale quindi hai cercato lavoro qui nell'agenzia interinale però tutta Gallarate e nessuno chiama ecco mangiare e mangiare la caitas hai detto hanno insieme i poveri capito tra Gallarate e Varese ecco quindi ti serve una casa, un reddito che cosa ti serve? anche un minimo di lavoro con un minimo di reddito e anche una stanza va bene Grezio non dico un appartamento monolocale che già sono alti gli affitti però almeno una stanza e un bagno proprio il minimo è dispensabile per poter vivere in maniera dignitosa grazie a tutti grazie a tutti